Ciao, sono Patrizia Setteeducati, channel naturale e creatrice del metodo canalizzazione vibrazionale angelica. Aiuto le persone a entrare in contatto con se stesse, con il proprio potere interiore, in modo che possano creare una vita appagante e sentirsi completamente realizzate, sino ad arrivare a scoprire il cammino verso la propria missione di vita. Questo grazie alle mie guide, all'aiuto degli angeli e degli esseri di luce con cui sono in contatto da sempre. Dall'inizio di quest'anno ricevo lettere, email di persone che mi dicono che stanno attraversando un periodo particolarmente difficile e sfidante. Forse è capitato anche a te, molte di queste persone mi dicono proprio di essere in una situazione emotiva altalenante, di non riuscire a dormire la notte, di sentirsi senza energie, proprio sconnesse dalla propria voglia di fare. Si sentono completamente distaccate dal mondo, non sentono che il mondo le rappresenta. Molte sentono che la vita che hanno fatto sino ad ora non gli va più bene e si sentono prive di risorse, svogliate, senza più l'energia per mettersi in gioco e per portare avanti i propri sogni, i propri progetti. In questo periodo tu sei chiamato alla purezza a tutti i livelli, il tuo corpo rifiuta cibo spazzatura, le sostanze chimiche, hai un forte richiamo verso l'etica, l'autenticità, la compassione, l'amore incondizionato. Inoltre ti danno molto fastidio, ingiustizia, materialità, restrizioni. La tua intolleranza nei confronti di ciò che non risuona con ciò che sei è aumentata tantissimo. Proprio ora, in questo periodo, è importante che tu ti senta centrato in buona salute, vitale, consapevole della tua forza e del tuo potenziale e che tu possa avere accesso a tutte le tue risorse, come non mai, che tu sia connesso a te stesso e alle tue energie e alle energie più elevate inoltre. E anche se varie volte ti è già venuta voglia di gettare la spugna, è ora il momento invece di trovare te stesso, di connetterti con te stesso, di fare progetti perché sappi che questo è un momento di grande, grande preparazione. Ebbene, proprio per questo ho pensato a te. Ecco il corso che ho creato per aiutarti a risvegliare, a riconnetterti con la tua forza interiore, per superare questo periodo così sfidante in modo che tu possa creare veramente la vita che vuoi. Sprigiona la tua forza divina con il risveglio del drago e della Kundalini. Questo è un corso veramente speciale e ci sono dei contenuti canalizzati, riuniti insieme in un unico corso per la prima volta. È un corso veramente esplosivo, non saprei come esprimerlo in un altro modo perché è veramente potente. Inoltre l'energia della Kundalini risvegliata grazie agli angeli è una cosa veramente unica ed è un dono che mi è stato dato qualche anno fa. In questo corso tu avrai modo di lavorare direttamente con me e di sperimentare perché è un corso esperienziale il tuo potere. Potrai riconnetterti alle forze che sono celate dentro di te perché quelle forze dentro di te ci sono anche se non le conosci, anche se magari non le hai mai sentite o se le hai sentite per dei brevi periodi della tua vita e avrai degli strumenti pratici per poterle continuare a risvegliare, a tenere attive e utilizzarle nella tua vita in modo che tu possa sentirti consapevole, centrato, vitale, carico e potente in modo che la tua vita possa cambiare realmente e se tu utilizzerai queste tecniche che sono semplicissime, molto molto forti e molto molto efficaci questo avverrà. Ovviamente dovrai metterci un po' di impegno anche tu ma sarà un impegno molto semplice perché comunque queste tecniche sono anche molto molto piacevoli da utilizzare. Quindi in questo corso tu avrai modo di ripulirti da tanti blocchi limitanti, potrai sentirti connesso naturalmente all'abbondanza e potrai sentire proprio tutti i tuoi chakra, imparare a riequilibrarli, armonizzarli e a risvegliarli. Inoltre potrai aumentare tantissimo la tua vibrazione in modo proprio esponenziale e sentirti connesso contemporaneamente con la terra, con l'universo e con te stesso come non mai in uno stato di completa e profonda presenza. Inoltre aumenteranno anche le tue percezioni extrasensoriali in modo naturale e sentirai un benessere, una gioia che non sperimenti già da tempo. Questo ti permetterà anche di ritrovare un bellissimo equilibrio e di essere in contatto con la tua saggezza interiore. Sentirai nuovamente la libertà di essere quello che sei veramente. Imparerai a gestire e utilizzare questo potenziale perché è importante che tutto quello che tu impari tu lo possa utilizzare nella tua vita in modo pratico e sentirai che tutto diventa possibile utilizzando queste tecniche e nulla più ti farà paura. Non puoi nemmeno immaginare cosa può darti e quanto può trasformarti tutto questo in un unico corso. Potrai veramente sentire una nuova decisione, una nuova energia, il coraggio di vivere e con nuovo entusiasmo in modo che tu possa utilizzarlo nella tua vita e sentirti pieno di energia per poter realizzare finalmente i tuoi sogni. Quindi dai a te stesso questa opportunità, un'opportunità bellissima di vivere la vita che desideri, una vita piena di gioia, abbondante e di manifestarti pienamente per quello che sei, per quello che tu sei, per quello che senti di voler manifestare in questa esistenza e permetti alla tua forza di sprigionarsi. Contattami per riservare il tuo posto, contattami via email e buonissimo risveglio, tu non hai neanche idea di quanto questo passaggio profondamente trasformativo può cambiare la tua vita. Ciao, un abbraccio. A volte le grandi trasformazioni partono da decisioni molto semplici. Grazie. 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 Grazie.